Uomini e donne, piccoli e grandi, ricchi e poveri, savi e ignoranti, ebrei e gentili, ascoltate, Gesù Cristo doveva essere crocifisso e doveva risuscitare dai morti. Lui stesso, diverse volte, parlò di quello che gli doveva accadere a Gerusalemme e disse queste cose ai Suoi discepoli. Per esempio, leggiamo, come essi percorrevano insieme la Galilea, e Gesù disse loro, il figlio dell'uomo sta per essere dato nelle mani degli uomini e l'uccideranno e al terzo giorno risusciterà. In un'altra circostanza, Gesù disse ai Suoi discepoli, ecco noi saliamo a Gerusalemme e il figlio dell'uomo sarà dato nelle mani dei capi sacerdoti e degli iscrivi ed essi lo condanneranno a morte e lo metteranno nelle mani dei gentili per essere schernito e flagellato e crocifisso, ma il terzo giorno risusciterà. Dunque, Gesù sapeva quello che gli sarebbe accaduto a Gerusalemme. Cioè, egli sapeva che sarebbe stato crocifisso e il terzo giorno sarebbe risuscitato dai morti. Questo perché era stato innanzi determinato da Dio che ciò dovesse avvenire al Cristo. Infatti, Dio abbantico aveva preannunziato la venuta del suo Cristo e sul suo Cristo aveva detto tramite il profeta Esaia quanto segue ma egli è stato trafitto a motivo delle nostre trasgressioni fiaccato a motivo delle nostre iniquità. Questo per quanto riguarda la morte che avrebbe subito il Cristo. Per quanto riguarda la resurrezione, invece, il Dio aveva parlato tramite Davide, che era profeta, il quale aveva detto anche la mia carne riposerà in isperanza perché tu non lascerai l'anima mia nell'Hades e non permetterai che il tuo santo vegga la corruzione. Davide, antivedendola, parlò della resurrezione del Cristo dicendo che non sarebbe stato lasciato nell'Hades e che la sua carne non avrebbe veduto la corruzione. quindi la morte di Cristo Gesù e la sua resurrezione erano stati preannunziati da Dio e quindi innanzi determinati. Ecco perché Gesù, parlando della sua morte e della sua resurrezione, disse che doveva, cioè queste erano cose che dovevano avvenire. Di fatti, quando poi Gesù risuscitò dai morti, leggiamo in Luca che quando le donne si recarono al sepolcro la mattina molto per tempo, si erano recate al sepolcro portando gli aromi che avevano preparato, si trovarono la pietra rotolata dal sepolcro dove Gesù era stato messo, il cadavere di Gesù, il corpo di Gesù, ma entrate non avevano trovato il corpo del Signore Gesù. Allora, mentre erano, diciamo, perplesse, apparvero dinanzi a loro due uomini in vesti sfolgoranti. erano degli angeli. E questi angeli dissero loro perché cercate il vivente fra i morti? Egli non è qui ma è risuscitato. Ricordatevi come egli vi parlò quando era ancora in Galilea dicendo che il fio dell'uomo doveva essere dato nelle mani degli uomini peccatori ed essere cocifisso e il terzo giorno risuscitare. Ora, queste furono le parole di quei santi angeli che appunto rivolsero a quelle donne. E cosa leggiamo subito dopo? Ed esse si ricordarono delle sue parole. Quindi si ricordarono che Gesù aveva preannunziato la sua crocifissione ed anche la sua resurrezione. dunque in Gesù si sono adempiute le scritture profetiche concernenti il Cristo che doveva venire nel mondo per salvare il mondo. Dunque io vi annunzio la buona novella che Gesù è il Cristo che è morto per i nostri peccati secondo le scritture che fu seppellito che risuscitò il terzo giorno secondo le scritture e che apparve ai testimoni che erano stati innanzi scelti da Dio. Questa è la buona novella che vi annuncio nel nome del Signore Gesù affinché voi credendo in essa siate salvati dai vostri peccati siate perdonati siate giustificati perché la buona novella è potenza di Dio per la salvezza d'ogni credente del giudeo prima poi del greco poiché in essa nella buona novella che poi è l'Evangelo appunto l'Evangelo significa buona novella nella buona novella è rivelata la giustizia di Dio da fede a fede secondo che è scritto ma il giusto vivrà per fede dunque riflettete a quello che è avvenuto a Gerusalemme circa duemila anni fa cioè considerate attentamente la morte espiatoria di Gesù Cristo come anche la sua resurrezione erano state preannunziate quindi predeterminate da Dio e questo per provvedere la redenzione la giustificazione che dà vita la cancellazione dei peccati dunque sappiate questo che mediante la fede nell'Evangelo l'uomo viene salvato perdonato giustificato santificato riconciliato con Dio ed ottiene la vita eterna la vita eterna sì tutto per grazia per grazia mediante la fede ma sappiate anche questo che se rifiuterete di credere nella buona novella sarete condannati condannati ma perché il vostro Dio è un Dio che condanna certo il nostro Dio è un Dio che condanna perché è un giusto giudice egli è il giudice di tutta la terra ed egli ha stabilito che chi non avrà creduto nell'Evangelo sarà condannato quindi ciò che vi aspetta è una sorte orribile ignominosa vergognosa tremenda spaventevole perché? perché morirete nei vostri peccati e morendo nei vostri peccati ve ne andrete all'inferno sì perché l'inferno esiste è un luogo di tormento reale dove arde il fuoco e dove vanno coloro che muoiono nei loro peccati ora voi siete sotto il peccato e quindi l'ira di Dio è sopra di voi moriste in questo preciso momento senza Dio senza Cristo ve ne andreste all'inferno cattolici il purgatorio non esiste è un'invenzione c'è o il paradiso o l'inferno per coloro che muoiono in paradiso ci vanno i salvati all'inferno ci vanno gli schiavi ossia coloro che sono schiavi del peccato dunque voi siete schiavi del peccato e siete sulla via che mena all'inferno non vi può salvare Maria non vi possono salvare i cosiddetti sacramenti non vi possono salvare le indulgenze non vi può non vi può salvare il rosario insomma la chiesa cattolica romana non vi può salvare anzi la chiesa cattolica romana vi mene in perdizione chi è in grado di salvarvi è il signore Gesù Cristo il salvatore del mondo lui è colui che il padre ha mandato nel mondo per essere la propizzazione dei nostri peccati lui è colui che Dio ha mandato nel mondo per essere il salvatore del mondo quindi vi dovete ravvedere credere in lui dovete credere in lui e vi ho detto che cosa dovete credere non una cosa qualsiasi in merito a Gesù no no dovete credere che Gesù di Nazareth è il Cristo che è morto per i nostri peccati secondo le scritture che fu seppellito che risuscitò il terzo giorno secondo le scritture che apparve ai testimoni che erano stati innanzi scelti a Dio perché questo è l'Evangelo potenza di Dio per la salvezza di ogni credente fuori dall'Evangelo non c'è salvezza non vi può salvare Sant'Antonio non vi può salvare Maria non vi può salvare non vi può salvare nessun altro all'infuori di Gesù Cristo in nessun altro è la salvezza in nessun altro avete capito in nessun altro vi affidate a Maria andrete all'inferno Maria è in cielo la madre di Gesù è in cielo nella gloria ma voi andrete all'inferno se vi appoggiate ad una presunta intermediazione di Maria Maria non può fare assolutamente niente per voi niente avete capito cosa significa niente nulla zero Maria è in cielo però non è in grado di vedervi e non è in grado di ascoltarvi quindi vi dovete ravvedere e convertire dai vostri idoli muti a Dio e credere nell'Evangelo sì sì nell'Evangelo perché la salvezza si ottiene credendo nell'Evangelo la giustificazione si ottiene credendo nell'Evangelo la remissione dei peccati si ottiene credendo nell'Evangelo la vita eterna si ottiene credendo nell'Evangelo quindi voi vi state illudendo pensando che con i cosiddetti sacramenti vi potete vi potete acquistare a vita eterna con le opere buone le indulgenze a confessione al prete tutta vanità non serve proprio a niente il cattolicesimo mena in perdizione voi vi dovete ravvedere e credere nell'Evangelo ve lo ripeto ve lo ripeto veramente vi scongiuro nel nome del Signore ravvedetevi credete nell'Evangelo della grazia di Dio altrimenti morirete nei vostri peccati ve ne andrete all'inferno il mio desiderio è che voi siate salvati per questo che vi annuncio l'Evangelo della grazia e vi esorto a ravvedervi e a credere nell'Evangelo che avrei chi da udire Oda